Stila, io ti capisco, capisco che non mi aspettavi e che probabilmente hai passato una nottata piuttosto complicata, ma non sai che viaggio ho fatto io. Dov'è il vostro figlio? Mamma. Ciao Sandra, sono Giulio. Quel bambino chi è? Hai detto che avevo il padre. Le stelle non si dicono le bugie. Voglio una bella confessione. Sincera. Senza ambiguità. Una di quelle che non si torna più indietro. So che hai sentito dei rumori strani, ma va tutto bene.